Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del terremoto che sabato scorso ha colpito il Nepal. I morti, secondo gli ultimi dati forniti dal Ministero dell'Interno nepalese, sono oltre 4.500, mentre i feriti sono circa 8.000. In alcuni villaggi il 70% delle abitazioni è stato completamente distrutto. Un milione sono i senza tetto e oltre 6 milioni e mezzo le persone che soffrono gravissimi disagi a causa della scarsità di viveri, luce elettriche e carburante. La Caritas di Sulmona Valva esprime solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dall'emergenza, invitando tutti alla preghiera. Tramite i riferimenti della Caritas locale si può inviare il proprio contributo economico a Caritas Italiana, che ha già donato 100.000 euro alle popolazioni colpite. Il sito della diocesi di Sulmona Valva ci informa che la priorità rimane la ricerca dei sopravvissuti e l'assistenza senza tetto con beni di prima necessità, soprattutto acqua e materiale igienico-sanitario, oltre che tende, coperte e teli per ripari temporanei. Vi è una preoccupazione particolare per le fasce più vulnerabili, come minori, anziani e disabili. Tutto è ancora più complicato dalla fredda temperatura notturna e dalla pioggia. Per sostenere gli interventi in corso si può donare il proprio contributo ai seguenti riferimenti della Caritas di Sulmona Valva. Conto corrente bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna IBANITI 72U 0538 74 08 02 00 00 00 06 49 47 Conto corrente postale numero 105 62 67 6 Causale Asia terremoto Nepal Grazie a tutti.